A Capaccio Pessum è stato già definito il calendario degli eventi per tutto l'anno 2024. Si muove in anticipo l'amministrazione guidata dal Sindaco e Presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Nonostante l'anno corrente sia iniziato da poco meno di 40 giorni, i cittadini e i turisti della città dei Templi sapranno già in anticipo il programma di tutte le manifestazioni che si tengono sul territorio comunale. Per il 2024 abbiamo deciso di raccogliere in un calendario che va da gennaio a dicembre le manifestazioni e gli eventi che si terranno a Capaccio Pessum. Un calendario che, pur in costante aggiornamento, contiene già decine di momenti importanti. Ha scritto sulla sua pagina il Sindaco di Capaccio Pessum, Franco Alfieri. Perché questa decisione? Perché la programmazione è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una località turistica come Capaccio Pessum. Vogliamo fare in modo che gli eventi della nostra città non siano solo attrattivi per un pubblico sempre più vasto, spiega, ma anche che di quel pubblico possano dettare l'agenda. La programmazione, inoltre, ci consente una buona concertazione degli appuntamenti e una giusta distribuzione degli stessi nel tempo e nei diversi luoghi della città. Il calendario completo degli eventi è sul sito discoveringpessum.it, dove è presente anche un conto dalla rovescia della prossima primavera, che scatterà fra 40 giorni esatti. Si parte già con gli eventi del Carnevale, ormai alle porte. Sabato 10 febbraio via l'appuntamento a Carnevale Ogni Contrada Vale, organizzato dall'Associazione La Rinascita, palestra comunale Spinazzo, mentre domenica 11 febbraio Carnevale al Capoluogo, organizzato dall'Associazione Paidia, al centro storico di Capaccio Capoluogo. Febbraio si concluderà con due eventi all'ex tabacchificio NEXT. Dal 23 al 25 febbraio è in programma infatti MAGMA, la mostra gastronomica alimentare dedicata alla mozzarella di bufala, mentre il 25 febbraio sarà la volta di mille mani per un sorriso. Ottava edizione del concorso a cura dell'Associazione Capacchamp, sempre all'ex tabacchificio NEXT. Ex tabacchificio NEXT è ancora protagonista anche a marzo. Dall'8 al 10 ecco l'internazionale Fireworks Fair, esposizione dei professionisti e tecnici pirotecnici. Il 15 marzo si terrà invece lo spettacolo teatrale musicale con Umberto Squitieri, oscillazione di acidi denucleici. Sempre al NEXT si terrà la tredicesima edizione di Pessum Wine Fest, dal 23 al 25 marzo. In mezzo comunque spazio anche allo sport, con l'ottava cronometro dei Templi, una gara ciclistica all'arena archeologica di Pessum. Il 23 marzo, nel percorso di avvicinamento che porta alla Pasqua, ci sarà anche una rappresentazione della via Crucis in via degli Urivi incontrata a Spinazzo.